Ciao Manuela, io sono il salutatore, ecco, questo è un saluto per tutti i due fan che questi sono. Allora, un bacio grande a tutti, andate a prendere le grede del flash, al Vietimac, al cinema. Ecco, non mancare, sono tutti gli straordinari, ecco, 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 perciò andate, andate che ne metterete un po' spende. Bellissime, ciao!